Oh I move the world I need respect Yes I do I need respect Oh yeah Yeah Anche quando ci buttiamo via Per drabbio o per venire Se che Non so Non so Anche quando Anche quando Anche quando e che cosa vuoi credi c'è una forza in noi amore mio è forte dello scintillino di questo mondo pazzo e inutile è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai quando toccherai il fondo con le dita a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé amore non lo sai vedrai una via di uscita c'è anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti al mondo irraggiungibile anche quando la speranza oramai non basterà c'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità anche se c'è chi la offende o chi le vende la vita e quando sentirai che afferra le tue dita riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà con sé non lasciarti andare mai non lasciarmi senza te ciao a tutti grazie a Versa grazie di essere qui per un'iniziativa così importante come questa è una soddisfazione per noi essere qui con tutti questi miei amici ora l'elenco qualcun altro è rimasto bloccato in autostrada ma spero che arrivi allora iniziamo da numero uno Marcello Magnelli numero due Leon vincitore della terza edizione di Amici numero quattro Glauco Dolci extronista cinque Raffaello Balso ultimamente ha fatto cento vetrine numero sei Francesco Benigno ragazzi fuori ed altri numero sette Totò Schillaci il capo cannoniere della nazionale italiana dei mondiali del 90 numero otto io Giovanni Conversano numero nove Matteo Guerra uomini e donne numero quattordici Gianni Pagulli il fotografo dei VIP numero sedici Thomas Grazioso amici e caramba numero diciassette Ciro Petrone e qui la standing ovation numero diciotto Gian Cosimo Pagliara uomini e donne numero quindici Claudio Tagliacozzo amici numero ventuno Lombardo Antonino amici numero trentuno Salsetta Giuseppe amici numero venti Amato Scarpellino amici poi abbiamo ancora Luca Riema Michele Maddaloni e Tony dall'isola dei non famosi ragazzi un attimo un attimo ho dimenticato qualcun altro scusate poi abbiamo Daniele Centra uomini e donne ventidue leggo qui bomberino trentatré Roanna trenta Vitolo Vitale Vitale Gregorio trentatré Luca Riema un posto al sole l'allenatore Vitali Alvaro Vitali il mitico Pierino e un applauso al capitale sei felice di partecipare a questa edizione a sostegno dell'AISA sono felice di partecipare a questa edizione ma è proprio il progetto di questo gruppo di amici è quella di aiutare le persone che ne hanno bisogno la dimostrazione che dietro l'aspetto professionale di ognuno di noi c'è un cuore che batte un'anima e per noi è una soddisfazione presenziale a queste manifestazioni quindi siamo tutti insieme per sostenere la ricerca scientifica alla grande tutti insieme sempre tutti insieme tutti per l'AISA Raffaello ma tu giocherai bene in capo? buongiorno buongiorno a tutti io direi tanto di fare una cosa visto che siamo tardi vorrei che tutti i giocatori per essere in campo sono veramente si dilunghi io comunque voglio ringraziare l'organizzazione perché la conosco dal 2003 da quando facevo Matteo di Un posto al sole quindi adesso vorrei tagliare vorrei tagliare per dare spazio ai giocatori perché se no veramente adesso è il momento per cui divertirsi quindi facciamo un applauso a tutte le persone che sono intervenute a tutte le persone che hanno lasciato il loro affetto il loro lavoro per venire a questa manifestazione grazie a tutti bene allora si preparano intanto le due squadre è arrivato qui il sindaco l'amore mio è la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà la forza dentro di noi amore mio prima o poi la sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé che sussurra in tenerita guarda ancora quanta vita c'è che sussurra in